A Birgi, gonarmi e droga, arrestato facoltoso americano, controlli delle forze dell'ordine, arresti e sequestri in provincia, credito di imposta per le aziende che si trovano all'interno delle aree ZES in Sicilia. Il Mazzara vince in trasferta e mantiene il primo posto in classifica. Ben ritrovati amici telespettatori, nuova edizione del TG8, informazione a voi tutti, un buon inizio settimana. Nella serata di sabato 1 maggio i carabinieri della stazione di Marinella di Selinunte hanno deferito in stato di libertà un 37enne per i reati di evasione e danneggiamento. Il soggetto, in atto sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari dallo scorso febbraio, è stato sorpreso dai militari fuori dalla propria abitazione, in evidente stato di ebbrezza. La centrale operativa, avendo ricevuto l'allarme proveniente dalla manomissione del braccialetto elettronico, inviava tempestivamente un equipaggio dei carabinieri della compagnia di Castelvetrano, vista la pericolosità del soggetto, che nei primi giorni dell'anno scorso, oltre ad essere stato arrestato perché sorpreso con 40 grammi di cocaina a bordo dell'autovettura, si era reso protagonista di alcuni incidenti stradali, nonostante fosse tutte le volte sprovvisto di patente di guida, con gravi conseguenze per i malcapitati che si sono imbattuti lungo il suo cammino. In quelle circostanze l'uomo non aveva presentato soccorso ai malcapitati, abbandonando il luogo dell'incidente e rendendosi irreperibile. Lo stesso si è reso responsabile di diverse violazioni, passando dalla misura restrittiva dell'obbligo di dimora agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Espletate le formalità di rito, veniva sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari come disposto dall'autorità giudiziaria, la quale valuterà nuovamente la posizione dell'uomo. È in volo dagli Stati Uniti con droga e armi, un facoltoso cittadino americano è stato arrestato nell'aeroporto di Trapani, Vincenzo Florio. Aveva con sé armi e droga il cittadino americano arrestato nel tardo pomeriggio di venerdì scorso presso l'aeroporto di Trapani Birgi dagli operatori della squadra mobile della questura di Trapani, coadiuvati dalla polizia di frontiera, dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e da un'unità cinofila della Guardia di Finanza. L'uomo, 64enne statunitense, raggiunto intorno alle 13 nello scalo trapanese a bordo di un velivolo privato proveniente direttamente dalla Florida. Nel corso del controllo effettuato sui numerosi effetti personali che il facoltoso uomo d'affari portava al seguito, gli operatori impegnati nell'attività di polizia hanno rinvenuto due pistole calibro 38 schermate da alcuni pesi a cavigliera e diverse munizioni. Avvolti in alcune coperte una carabina ad aria compressa con potenza superiore a quella consentita in Italia per la libera vendita e due archi da tiro con relative frecce. Celate all'interno di borracce e in alluminio diverse buste di marijuana per un peso complessivo di oltre un chilo e a parte funghi di tipo allucinogeno e alcune compresse di prodotti anfetaminici. Dai primi accertamenti effettuati, l'uomo, finito in carcere con l'accusa di introduzione nello stato di armi e sostanze stupefacenti, era salito a bordo esibendo un passaporto annullato, traendo così in inganno il pilota del jet. Ed ancora cronaca, notte di fuoco, sabato sera a Marsala in Contrada Ciancio all'interno di un appezzamento di terreno all'aperto di proprietà di un 55enne. Un vero e proprio inferno quello che si sono trovati a combattere i vigili del fuoco di Marsala quando, arrivati sul posto con tre automezzi più un autobot fatta arrivare dal comando di Trapani, hanno trovato 15 autovetture in disuso completamente avvolte dalle fiamme, un furgone minivan da 11 posti, un carattrezzi e due leoncini pieni di gomma all'interno, tutto completamente avvolto dal fuoco. Prontamente i pompieri hanno attaccato il vasto incendio da più punti per evitare ulteriori danni, utilizzando anche liquido schiumogeno. Solo due ore dopo l'incessante lavoro, evitando che le fiamme si propagassero ad altre vetture, l'incendio è stato domato. Sul posto è intervenuta la polizia che indaga sulle cause del rogo che sono di probabile origine dolosa. Ed ancora controlli da parte dei carabinieri nelle zone rurali di Poggio Reale e Salaparuta. È stato denunciato un giovane per detenzione illegale di pistola. I carabinieri della compagnia di Castelvetrano, con l'ausilio dei militari dello squadrone Eliportato Cacciatori Sicilia, hanno condotto dei controlli nelle zone rurali di Poggio Reale e Salaparuta, che hanno portato al deferimento in stato di libertà di un 25enne di Poggio Reale e a sequestro di due fucili, due pistole e munizionamento vario. Assolutamente prezioso in questo genere di attività di polizia giudiziaria è il supporto del personale in forza allo squadrone Eliportato Cacciatori. Un reparto che in Sicilia è stato istituito nel maggio 2017, i cui appartenenti sono ampiamente addestrati allo svolgimento di servizi di osservazione, al controllo di anfratti, al censimento e controllo di casolari e ovili isolati che possono celare covi o rifiugi alla ricerca di armi e piantagioni di canapa indiana abilmente occultate. Una delle pistole sequestrate ancora cariche era stata occultata insieme a varie munizioni non dichiarate all'interno di un locale adibito a granaio e inserita in un contenitore di plastica per migliorarne la conservazione. Al giovane che dovrà rispondere del reato di detenzione illegale di arma comune da sparo, sono state conseguentemente sequestrate in via a cautelare anche due doppiette, una pistola semi-automatica e circa 50 cartucce di vario calibro. E tre persone sono state arrestate dai carabinieri di Castelvetrano per furto aggravato e danneggiamento. I carabinieri della compagnia di Castelvetrano al termine di alcune attività di indagine finalizzate al contrasto dei reati di tipo predatorio hanno denunciato in stato di libertà tre persone. I reati contestati a vario titolo sono furto aggravato e danneggiamento. In particolare, un ventunenne disoccupato e noto alle forze dell'ordine a causa dei suoi precedenti di polizia è stato segnalato alla autorità giudiziaria per i reati di furto aggravato, tentato furto e danneggiamento. La denuncia a carico del ventunenne scattata al termine di una attività di indagine condotta dai militari della stazione di Castelvetrano volta a fare luce su una serie di furti compiuti verso la fine del mese scorso che avevano interessato alcuni veicoli parcheggiati su strada. Le indagini compiute dal personale dell'arma hanno permesso di accertare che il ventunenne si era reso responsabile del furto di un ciclomotore di tre autoradio e del tentato furto di una quarta autoradio. L'attività di perquisizione ha permesso di raccogliere ulteriori prove a riscontro di quanto già emerso nel corso delle indagini. Infatti parte dell'area furtiva è stata rinvenuta e restituita ai legittimi proprietari. Altre due persone sono state denunciate per il furto di energia elettrica in concorso. Infatti i carabinieri della stazione di Marinella, su delega della Procura della Repubblica competente, hanno accertato che i due, un uomo e una donna conviventi rispettivamente di 29-27 anni, avevano creato un allaccio diretto alla rete pubblica che gli aveva permesso di sottrarre una quantità di energia elettrica del valore commerciale di circa 1.500 euro. Ed ancora i carabinieri di Mazzara hanno ritrovato l'auto rubata all'inizio di aprile dall'autoparco comunale di Mazzara, i particolari nel servizio. I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Mazzara del Vallo hanno rinvenuto l'autovettura di proprietà del comune che era stata rubata agli inizi dello scorso mese di aprile. Gli autori del furto in quella occasione si erano introdotti nottetempo all'interno dell'autoparco comunale sito in contrada affacciata. I carabinieri di pattuglia si erano accorti nel corso del servizio notturno di controllo del territorio che il cancello d'ingresso della sede comunale presentava dei segni di effrazione e avevano immediatamente avviato gli accertamenti del caso. La nota di ricerca dell'autovettura è stata subito condivisa con gli altri colleghi in servizio sul territorio e le ricerche si sono concentrate nelle zone più periferiche e di campagna. L'azione sinergica svolta ha dato i suoi frutti. I militari dell'arma giunti in contrada salsa hanno notato da lontano un'autovettura parcheggiata in modo anomalo ai margini di una strada sterrata. Era proprio l'auto in uso ai dipendenti del comune di Mazzara rubata qualche giorno fa. L'autovettura è stata già restituita al comune ma prima i carabinieri hanno effettuato uno scrupoloso sopralluogo per la ricerca di eventuali tracce lasciate dai responsabili in modo da assicurarli presto alla giustizia. Ed oggi il giudice per le indagini preliminari di Marsala Riccardo Alcamo ha ascoltato i quattro arrestati per lo stupro nei confronti di una diciottenne di Campobello di Mazzara per l'interrogatorio di garanzia. Nella vicenda inoltre è coinvolto anche un quinto ragazzo, un minorenne, per cui i magistrati stanno procedendo separatamente. Ed a proposito della notizia che ha sconvolto un po' il fine scorso settimana, il padre della vittima di stupro a Tre Fontane si schiera adesso con la figlia. Ascoltiamo. A due giorni dagli arresti parla il padre della diciottenne che ha denunciato di essere stata violentata da quattro giovani in una villa della borgata marinara di Tre Fontane. L'uomo, che è affetto da cecità, interviene con un lungo post sui social dopo le polemiche sollevate dal fatto di avere inizialmente definito dei bravi ragazzi gli arrestati, salvo poi sostenere la figlia nella sua scelta di presentare denuncia. Ancora oggi con sdegno devo dire che questa versione dei fatti non la conoscevo e sono stato all'oscuro di tutto perché mia figlia non sempre si è aperta completamente, forse per paura, scrive l'uomo. Il papà della ragazza, rivolgendosi a quanti hanno commentato duramente sui social le sue dichiarazioni, scrive. Voi non sapete cosa ha significato per me scoprire tutto. Dopo il processo pubblico, cioè quello del vostro giudizio, mi attenne anche quello all'interno delle istituzioni. Tutto ciò vi sembra una cosa facile? In un primo momento il padre della ragazza aveva appreso in modo sommario dalla figlia arrivata a casa a notte fonda cosa era accaduto. Ecco perché ha telefonato a uno dei quattro presunti violentatori per incontrarlo. Il giovane invece si è presentato con gli altri tre indagati, due erano amici del figlio sin dall'infanzia. Mi hanno raccontato, spiega, la loro versione dei fatti, cioè che non avevano fatto nulla di male a mia figlia e io ci ho creduto e così mi sono fatto accompagnare dai carabinieri. Ecco perché quelle prime dichiarazioni. Poi, una volta a casa, mia figlia ha avuto modo di raccontarmi quanto successo e ho avuto modo di conoscere bene tutta la storia. E così sono andato di nuovo dai carabinieri e ho messo a verbale che mia figlia aveva fatto bene a denunciare. Tutta la famiglia è al suo fianco. Ed è intervenuto anche il Vescovo Mogavero, un po' in generale, su quelle che sono le vicissitudini riguardano i giovani della nostra provincia e non. La cronaca quotidiana, si legge, propone ragazzi e giovani, prevalentemente maschi, protagonisti di gesti sconsiderati di violenza, per lo più all'interno di quella che viene chiamata, con espressione truce, violenza di branco. La divulgazione di tali episodi da parte degli organi di informazione e il tam-tam sui social è raramente accompagnata da una seria riflessione sugli stessi. Si reagisce momentaneamente in modo emotivo, ha detto il Vescovo della Diocesi di Mazzara del Vallo, e tutto finisce lì, con una sensazione di inelottabilità desolante. È necessario e urgente, ha continuato Mogavero, rendersi conto e capire le ragioni di questi comportamenti, soprattutto per individuare responsabilità e rimedi. È fin troppo facile, ha continuato a uscirne sbrigativamente, dicendo che le giovani generazioni sono senza valori e senza aspirazioni, che trattano la vita delle persone e delle donne in particolare alla stregua di una fumata di canna. Tutto ciò nasconde abilmente le gravi responsabilità degli adulti, incapaci di testimoniare valori e di accompagnare con la fatica educativa la crescita di ragazzi e adolescenti. E non è una ragione valida dire che tutto ciò è assai complicato e difficile, perché è stato sempre così, ma nel passato recente chi ci ha preceduto ha saputo onorare questa missione. Onestamente, ha concluso un signor Mogavero, si impone un'ammissione di colpe e un'inversione di tendenza, al fine di ridare senso alle relazioni interpersonali, colorandole di attenzione e di rispetto e sostenendole con il dialogo tra le generazioni, perché nessuno possa ritrovarsi solo di fronte all'avventura quotidiana della vita. Ed ancora cronaca, lo scorso 1 maggio, un'operazione congiunta di Polizia e Guardia di Finanza portata al sequestro di prodotti ittici ed ortofrutticoli da venditori abusivi di Piazzetta Scalo a Mazzara del Vallo. Capitaneria di Porto di Mazzara del Vallo, Polizia Municipale e Guardia di Finanza hanno portato a termine lo scorso 1 maggio, presso Largo dello Scalo, un'operazione congiunta finalizzata alla repressione del commercio abusivo. È non tracciato di pescato e di altri beni alimentari, con la principale finalità di tutelare il consumatore finale e contrastare pratiche di commercio abusivo che danneggiano l'economia legale. I militari e le forze dell'ordine intervenuti alle prime ore del mattino hanno accertato la presenza di numerosi venditori ambulanti intenti a commercializzare prodotti ittici e ortofrutticoli esposti all'interno di cassette di legno o di polistirolo posizionate direttamente sul manto stradale, in contrasto alle più basilari norme igieniche. I prodotti stavano anche per essere immessi nel mercato senza alcuna informazione sulla provenienza, in spregio alle normative di settore che impongono al venditore di fornire al consumatore le informazioni obbligatorie per garantire la tracciabilità e quindi la salubrità del prodotto. Alla vista degli agenti, i venditori si sono dati alla fuga, abbandonando sul posto i loro prodotti che sono stati immediatamente sequestrati e trasportati presso il comando della Polizia Municipale, in attesa dell'ordinanza di confisca e distruzione. Complessivamente sono stati posti sotto sequestro 100 kg di pescato misto e 25 kg di prodotti ortofrutticoli. Buona parte del pescato si presentava con una colorazione visibilmente alterata, chiaro segno di ripetute operazioni di congelamento e scongelamento, indice di una conservazione non corretta e molto pericolosa per il consumo umano. E torniamo a parlare della scomparsa della piccola Denise, si infettisce il mistero della scomparsa, vengono a galla nuovi particolari, intanto i legali di Anna Corona e Jessica Pulizzi intervengono nella trasmissione quarto grado di Rete4. A distanza di 17 anni emergono nuovi elementi sulla vicenda della piccola Denise Pipitone, la bimba di 4 anni scomparsa a Mazzara del Vallo nel settembre del 2004. Nel giallo spunta una botola che si trova nella casa della madre di Anna Corona, ex moglie del papà di Denise Piero Pulizzi. Come è emerso durante la trasmissione mattino 5, nel corso di questi anni la botola non sarebbe mai stata analizzata. Una ennesima incongruenza investigativa che mal si coniuga con i sospetti che fin dall'inizio dell'inchiesta si sono concentrati proprio sulla ex moglie e sulla figlia di Piero Pulizzi, Jessica. Scorci di intercettazioni, mezze frasi e testimoni scomparsi e ora persino la presenza di una botola. Nel corso della trasmissione quarto grado che si è occupata della vicenda sono intervenuti anche i legali di Anna Corona e Jessica Pulizzi tramite un comunicato stampa. La celebrazione di un lungo processo a carico di Jessica Pulizzi, concluso dopo tre gradi di giudizio con sentenza irrevocabile di assoluzione e l'archiviazione del procedimento penale a carico della signora Corona Anna, si legge nella nota, evidentemente non sono servite ad arrestare in alcune trasmissioni televisive l'odiosa campagna mediatica irrispettosa dei fatti e della verità. Per le sospiegate ragioni, conclude la nota, le signore Anna Corona e Jessica Pulizzi rifiutano di sottoporsi e di essere sottoposte a giudizi sommari da parte degli improponibili tribunali del popolo allestiti presso gli studi televisivi. Hanno conferito mandato di tutelare nelle opportune sedi i loro fondamentali diritti sistematicamente violati. Il mercoledì 5 maggio verrà dedicata un'intera giornata alla piccola Denise Pipitone con una serie di appuntamenti programmati con emittenti nazionali ed una manifestazione serale anch'essa ripresa e trasmessa a livello nazionale che a partire dalle 20 e 30 vedrà insieme a Piero Pulizzi e l'avvocato Giacomo Frazzitta nella piazza della Repubblica, a comunicarlo il sindaco della città Salvatore Quinci. Abbiamo chiamato a raccolta scuole, associazioni e cittadinanza con l'obiettivo di testimoniare la nostra solidarietà a Piera e Piero e per chiedere con forza la verità per Denise. Confidiamo nella partecipazione di molti pur nel rispetto delle prescrizioni anti-covid. Dalle 20 e 30 di mercoledì 5 maggio dunque le manifestazioni insieme per Denise si svolgerà in forma statica in piazza della Repubblica. E parliamo adesso del covid. Come ben sapete la Sicilia è rimasta in zona arancione ma potrebbe entrare in zona gialla dal prossimo 10 maggio. Questo è infatti l'obiettivo che si è posta l'isola che da sette giorni finalmente vede un calo progressivo del numero dei positivi. I dati dell'epidemia infatti sono in progressivo miglioramento e il trend dei contagi è al ribasso da qualche settimana. E anche Palermo dopo 20 giorni di zona rossa ha superato la fase più critica. Negli ultimi sette giorni l'isola ha visto un calo di casi pari al 17,1% e l'incidenza per 100.000 abitanti si è abbassata fino a quota 137, perfino inferiore alla media nazionale. E cambiamo decisamente argomento. Le imprese siciliane che si trovano all'interno delle zone economiche speciali della Sicilia potranno presentare all'Agenzia delle Entrate la comunicazione per la fruizione del credito. Le imprese siciliane che si trovano all'interno delle zone economiche speciali della Sicilia occidentale e della Sicilia orientale potranno presentare all'Agenzia delle Entrate la comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nelle aree ZES. L'accesso all'agevolazione fiscale prevista dalla legge di bilancio nazionale è in vigore dal 1 aprile ed è stato possibile grazie all'approvazione dei piani strategici preparati dalla regione siciliana per le due ZES siciliane e alla loro istituzione da parte del Governo nazionale nel giugno dello scorso anno. In particolare le imprese siciliane che intraprendono una nuova attività economica nelle ZES potranno usufruire di una riduzione del 50% dell'imposta sul reddito derivante dallo svolgimento di tale attività. Le imprese beneficiarie dovranno mantenere la loro attività e conservare i posti di lavoro creati nell'ambito dell'attività avviata nelle ZES per almeno 10 anni. Il mancato rispetto di tali condizioni comporterà la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituzione dell'agevolazione di cui si è già usufruito. L'agevolazione spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste per gli aiuti de minimis. Le imprese siciliane che vorranno usufruire del credito d'imposta per gli investimenti nelle ZES dovranno verificare la coerenza dei dati catastali delle proprie attività sul portale euroinfosicilia.it e sul sito dell'Agenzia per la coesione territoriale e successivamente inoltrare telematicamente all'Agenzia delle Entrate il modello apposito approvato dall'Agenzia. Le ZES sono state individuate in tutto il territorio siciliano. Nella provincia di Trapani ricadono le zone di Calatafimi-Segesta, Custonaci, Marsala, Mazzara del Vallo, Salemi, Sant'Aninfa e Trapani. Ed è stato approvato dal Consiglio dei Ministri un decreto legge che posticipa alcuni termini legislativi in prossima scadenza, in considerazione del proseguimento dello Stato nazionale emergenziale. Tra questi viene prorogato dal 30 aprile al 30 settembre 2021 la validità delle carte di identità con scadenza entro il 31 gennaio 2020. Inoltre è stato esteso da sei mesi a un anno e le termine entro il quale si potrà sostenere la prova scritta per prendere la patente di guida. E una piccola parentesi politica locale, Giuseppe Palermo e Giuseppe Lafrancesca, dirigenti del PD provinciale, esprimono soddisfazione per la loro nomina nel Dipartimento Infrastrutturale PD Sicilia, coordinato da Nicola Marchese. Riteniamo elevata, dichiarano i due dirigenti DEM, l'importanza di una nomina in un contesto territoriale con gravi deficit strutturali. La nostra azione costituirà un'opportunità per il nostro territorio e vuole essere uno strumento per accendere i riflettori sulle carenze infrastrutturali della provincia di Trapani. Con l'attivazione del Dipartimento Regionale Infrastrutturale, il PD democratico dimostra di rimanere attenta a quelle che sono le vere esigenze del territorio, in particolar modo quelli più marginali, le isole minori. E' mercoledì 28 aprile, presso la parrocchia Santa Gemma di Mazzara, rispettando il protocollo per il distanziamento sociale, i soci dell'Associazione Italiana Maestri Cattolici, sezione provinciale di Mazzara del Vallo, hanno rinnovato la loro adesione attraverso l'annuale tesseramento associativo. Dopo l'incontro nel salone parrocchiale preseduto dalla Presidente Katia Di Stefano, i soci, insieme a Don Antonino Favata, assistente ecclesiastico dell'Associazione, hanno celebrato la Santa Messa che è stata preseduta dal parroco Don Franco Geraldo Caruso. La comunità, che quest'anno celebra l'anno giubilare in occasione del cinquantesimo anno di erezione canonica della parrocchia, ha aperto la Porta Santa, simbolo di Cristo, lo scorso 11 aprile e attraversandola si può acquisire l'indulgenza plenaria alle solite condizioni, la confessione sacramentale, la Santa Comunione, la professione di fede, la preghiera per il Papa e l'esercizio di un atto di carità. Ed ancora il Rotary Club di Mazzara nei giorni scorsi ha consegnato sei tablet donati dal distretto Rotary 2021-10 Sicilia-Malta a tre istituti scolastici per favorire la didattica a distanza agli studenti più bisognosi. I tablet, due per ogni scuola, sono stati consegnati dal presidente del club mazzarese, il professor Calogero Giorgi, insieme al segretario Giuseppe Sinacori e Vincenzo Montalbano Caracci e ad un gruppo di soci ai rispettivi dirigenti scolastici, nello specifico alla professoressa Eleonora Pipitone dell'Istituto Comprensiva Iello, alla professoressa Serenella Di Rose del terzo circolo didattico Bonsignore, alla professoressa Silvana Lentini del liceo Adria Ballatore. Le dirigenti hanno ringraziato i soci del club per l'iniziativa. E apriamo adesso l'ampia pagina sportiva. Nella quarta giornata di campionato il calcio femminile marsala del presidente Chirco espugna lo stadio di Simone di Siracusa, battendo i locali del Santa Lucia con un netto 4-0. Le libetane portano a caso un ottimo risultato in un difficile campo ed esso si preparano ad affrontare un'altra difficile sfida che sarà domenica 9 maggio alle ore 16.30 a Petrosino contro la squadra di Messina. La gara si svolgerà a porte chiusa in attesa che le restrizioni Covid permettono la riapertura del pubblico. La società libetana trasmetterà la gara in diretta Facebook sulla propria pagina Facebook. Ed è una vittoria convincente quella della pallacanestro Trapani che al Palaconad vince il confronto con Ravenna con il punteggio finale di 96-75. Un successo importante per i Granata che si avvicinano sensibilmente alla qualificazione ai play-off della serie A2. E parliamo adesso del calcio. Girone di eccellenza con i risultati. Agragas-Don Carlo-Misilmeri 2-2, Marsala-Cus-Palermo 0-4, Nissa-Folgore 1-0, Oratorio-Sancire-Giorgio-Marineo-Mazzaracalcio 0-2, San Cataldese-Canicatti 2-1. La classifica vede in testa San Cataldese e Mazzara con 13 punti, Nissa 10, Agragas-Sotto, Misilmeri-Palermo 7 punti, Canicatti-Folgore 4 punti, Marineo-Sancire-Giorgio 1, Marsala-1 perché partiva con due punti di penalizzazione. E vediamo adesso gli highlight della partita tra Marsala e Cus-Palermo. Ricordiamo la vinta dagli ospiti per 4-0. Portivi, buono pomeriggio dal comunale di Paceco. La quinta giornata del campionato d'eccellenza vede Marsala contro il Cus-Palermo. Le squadre sono uscite proprio in questo momento. E' iniziata proprio in questo momento la gara e con il possesso di palla da parte del Marsala. Abbastanza veloce il numero 11 Monti che recupera, finisce a terra. e c'è il fischio da parte del direttore di gara. Mi sembra che è proprio il numero 11 che va per pochissimo. Il portiere Furnari non riesce a respingere il pallone ma si inzacca e le tira abbastanza forte. Ancio per il numero 11 della squadra palermitana che è abbastanza veloce. Questa volta però viene anticipato ancora. E c'è il secondo gollo. 2-0 con Furnari che rimane letteralmente fermo. Recupera poi il numero 8 Cardinale. Sbaglia tutto ed è ora Sov che va in aria. Viene, viene, viene. E a questo punto non ci sto veramente. Con il direttore di gara, il trapanese Melodia. Il fischio del direttore di gara che arriva in questo momento. Il tiro è abbastanza violento con il portiere che attende la sfera. attende il fischio dell'arbitro, il giocatore dell'Embassala. Ma l'arbitro non fischia, il giocatore non tira, si perde tempo. E quindi si va avanti così con Sov che recupera il tiro debole. Crisafulli non ha problemi a recuperare la sfera. Ancora con il numero 24 Federico entra in aria il tiro e la palla in fondo al sacco per il terzo gollo della formazione palermitana. Quindi 3-0 del Cusso Palermo. Si inizia proprio in questo momento. Con il fischio da parte del direttore di gara, con il possesso di palla da parte del numero 24 Federico. Tutto nella metà campo del Cusso Palermo in aria. Il pallone è bello, il colpo di destra da parte di Isabelli. Vediamo le intenzioni di Sov che manda in avanti il nuovo entrato, il numero 15 e palla che termina direttamente a fondo campo. E quindi può anche succedere. Ora cerchiamo di recuperare il tutto. Crisafulli intanto mette il pallone in calcio d'angolo. E ancora con il Cusso Palermo che se ne va velocemente. L'azione è buona e le gollo anche. Quindi 4-0 per il Cusso. Buono il passaggio da parte di Liga al compagno di squadra. Intenzionato a battere questo calcio di punizione. Il tiro è buono, però arriva debole fra le braccia del portiere Crisafulli. E abbenante in aria la sfera c'è il tiro debole da parte del numero 7. E quindi pallone che termina fra le braccia del portiere. E il triplice fischio da parte del signor Melodia di Trapani che mette fine a questo incontro. Il risultato finale. Cusso Palermo batte Marsala 4-0. E dopo gli highlight della partita del Marsala io vi lascio con le interviste del post-gara dei giocatori giallo-blu di Mr. Marino. Interviste realizzate per noi da Piero Campisi che ringraziamo. E a voi vi lascio con la programmazione di Teleotto e vi ricordo l'appuntamento alla prossima edizione. Sì, diciamo che per adesso fa abbastanza bene. Oggi sapevamo di incontrare una squadra ostica e quindi non era facile. Infatti il primo tempo siamo stati un po' agevolati per alcune scelte dell'arbitro. Poi ovviamente nel secondo tempo abbiamo uscito quelli che sono gli attributi e abbiamo fatto il 2-0. E poi niente, ovviamente poi la partita è data via. Sicuramente la partita di mercoledì, visto che in sette giorni che ho giocato tre volte, ovviamente oggi si sentiva un po' la fatica ma penso che sia una cosa più che normale. E niente, l'importante è che abbiamo conquistato i tre punti, che è quello che è l'obiettivo. E niente, ora pensiamo a domenica. Beh, è una partita molto delicata perché questo non è un campo facile. Poi noi venivamo da una prestazione difficile di mercoledì scorso, campo pesante. Comincia ad esserci caldo, quindi abbiamo pagato un po' la partita di mercoledì sotto l'aspetto fisico. Infatti oggi mi ha fatto un po' di fatica, però la cosa importante era quella di portare a casa tre punti. Il nostro obiettivo è che ci siamo riusciti. Onestamente il Marineo, uno dei fanalini di coda, ha dato fio da tolce al Mazzare nei primi 20 minuti. Poi c'è stato un episodio strano e che neanche io ancora so bene quello che è successo fra l'arbitro, Guardalina, hanno buttato fuori il loro portiere dei Mieri. Quindi neanche vorrei tornare su questo episodio. Dall'in poi non c'è stata più partita. Il Mazzare ha fatto due gol, ma ne poteva fare due, tre, quattro, cinque. Ci siamo divorati con una marea di gol, diciamo. Diciamo che è dall'inizio che lo dico. La nostra forza è il gruppo, tutti i 26 giocatori. Ogni volta la panchina fa la differenza. Oggi il mio bomber Roberto Cortese, che voglio fare i complimenti, ha fatto una grande partita. Ma diciamo che non l'ha potuta mettere dentro perché le giornate che capitano, per carità, ho fatto il cambio e come dici tu l'ho azzeccato. Guaiana ha fatto gol. Grazie. 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 Grazie.